buongiorno a tutti e vi do il benvenuto ad una nuova puntata del caffè con l'esperto che ricordo essere il nostro format di dirette che nel tempo di un caffè vi fornirà un overview sui mercati finanziari vi presento l'esperto di oggi paolo costa founding partner in chief marketing e communication officer di spindox buongiorno paolo buongiorno a voi saluto anche michele fanigliulo responsabile soluzioni di investimento di intermonte buongiorno michele buongiorno carola buongiorno a tutti gli amici ascoltatori e grazie paolo per essere con noi qui quest'oggi è un piacere settimana scorsa è stata una settimana ricca di avvenimenti siamo partiti giovedì con la riunione della bce nella quale ha dichiarato un ulteriore rialzo dei tassi di deposito di 50 punti base portandolo al 3 per cento e abbiamo concluso la settimana con il salvataggio bancario dopo la silicon valley bank negli stati uniti di credit suisse rilevata da obs con un'operazione organizzata e guidata dalle autorità berna la settimana scorsa le principali borse europee hanno chiuso la settimana in negativo abbiamo l'euro stocks 50 che chiude con una perdita di circa l'un per cento il da il dax con una perdita dell'uno virgola sessantacinque per cento purtroppo il peggiore listino è stato il fuzzimib con una perdita quasi del cinque per cento oltre ceano invece le borse americane hanno registrato un trend opposto vero positivo abbiamo il dow jones che ha registrato una performance dello zero virgola tredici per cento l'S&P 500 del più due virgola tredici ma la performance migliore è stata quella del nasdaq registrando chiudendo quindi la settimana con un più 5,33 per cento quindi michele secondo te come mai il nasdaq ha registrato questa performance positiva e maggiore rispetto anche gli altri listini americani carola effettivamente come giustamente dicevi tu insomma performance del nasdaq quindi della tecnologia americana è stata nettamente migliore ha sovraperformato il mercato sia ovviamente quello europeo ma anche gli altri diciamo settori in america però prima di rispondere io magari ti ribalterei la domanda e chiederei il parere ai nostri amici ascoltatori dopodiché poi magari diamo anche la nostra la nostra view che dici certo allora facciamo partire il nostro sondaggio eccolo allora vi chiediamo dove sarà il nasdaq a fine semestre quindi avrà una performance positiva del più 15 per cento comunque una performance positiva sui livelli attuali o un meno 15 per cento quindi una performance negativa intanto che votate vorrei ricordarvi che se durante appunto il webinar vi vengono in mente delle domande da fare il nostro esperto paolo costa oppure a michele scrivetele pure nel box dedicato che appunto a fine puntata ne sceglieremo una e la porremo ai nostri esperti allora io no intanto volevo giusto dare qualche livello sul sul nasdaq può essere interessante nel mentre che facciamo votare ecco diciamo che appunto abbiamo detto c'è stata una performance importante un rimbalzo una ripartenza dalla media 200 periodi e adesso ci troviamo su un livello di resistenza di una certa entità che quella tra 12 mila diciamo 12 mila e 6 più o meno i prezzi attuali e i 12 mila e 9 quindi questa è una bella fascia di resistenza vedremo appunto cosa intende fare il nasdaq ma sentiamo prima appunto cosa ne pensano i nostri ospiti si chiudo il sondaggio e vi mostro il risultato allora 65 per cento delle persone che ci stanno ascoltando ha una view positiva quindi con un rally appunto del nasdaq ma allora diciamo che anche anche noi abbiamo una view positiva sui tecnologici questo diciamo in funzione almeno di tre aspetti uno proprio più diciamo del momento con queste difficoltà problematiche di stabilità finanziaria che stanno colpendo che hanno colpito alcune banche insomma lo sappiamo lo sappiamo bene tutti sicuramente società soprattutto le big tech americane no quindi fang quindi le società più grosse diciamo presentano delle situazioni diciamo conto economico patrimoniali più importanti con forti flussi di cassa e quindi da quel punto di vista vengono viste vengono percepite dal mercato come quality stock in questo momento e quindi insomma sicuramente questo convoglia flussi verso queste società e poi ovviamente c'è il tema tassi che è fondamentale i tassi sappiamo che recentemente appunto sono anche scese un po' ma soprattutto diciamo che queste problematiche di stabilità finanziaria che hanno colpito le banche potrebbero anche accelerare la recessione in america e questo ovviamente che cosa vuole come si traduce male per le economie ma diciamo per i mercati come al solito si ragiona al contrario soprattutto per i titoli tecnologici perché perché vorrebbe dire no diciamo la fine del periodo di banche centrali okish quindi più accomodanti di conseguenza calo dei tassi magari altri diciamo appunto emissioni di liquidità qualcosa stiamo già vedendo appunto il salvataggio di alcune banche e questo potrebbe appunto favorire soprattutto il settore tech quindi anche da un punto di vista diciamo dei mercati il tech in questo momento risulta favorito ma abbiamo parlato di tech ovviamente americane no però paolo la tecnologia non è che c'è solo in america anzi anche noi in italia abbiamo il nostro la nostra da dire e quindi ti chiederei quali sono un po i trend no dominanti in italia per quanto riguarda la tecnologia beh allora prima cosa che mi viene da dire è che con riferimento all'italia c'è un gap per quello che riguarda la digitalizzazione delle nostre industrie dei nostri processi e dei servizi insomma anche nell'ambito della pubblica amministrazione questo gap dovrebbe essere in una certa misura colmato dalle risorse messe a disposizione attraverso il pnrr e questo è senz'altro un fatto positivo dal nostro punto di vista perché dovrebbe dare una diciamo sferzata di energia al nostro mercato l'aspettativa degli osservatori è che il cagra dal 2022 al 2025 in generale dei servizi di si collochi intorno all'11 per cento però la slide che state proiettando mostra che ci sono degli ambiti che tirano di più dove si concentreranno gli investimenti nei prossimi anni e dove quindi la crescita sarà più significativa è vero peraltro che non tutti questi ambiti sono associati a degli investimenti particolarmente significativi vedete che per esempio il settore che probabilmente crescerà a ritmi più significativi è quello della tecnologia blockchain ma è anche quello in cui probabilmente si continuerà a investire poco è diverso il caso del cloud dei servizi cloud e delle infrastrutture cloud che sarà decisamente premiato soprattutto in Italia proprio per effetto del PNRR che comporta una serie di investimenti per l'infrastrutturazione soprattutto nel settore della pubblica amministrazione che riguardano il mondo del cloud poi c'è l'intelligenza artificiale il cagra è significativo più 21,7 per cento e la sicurezza sono altri due ambiti nel mondo dell'ICT che cresceranno senz'altro a ritmi più significativi rispetto alla media del nostro settore ecco Paolo questo molto interessante riprenderei appunto questi ultimi due temi che sono anche molto sotto l'attenzione dei media ti chiederei intelligenza artificiale prima quindi se ci dai qualche delucidazione un po' sui trend del futuro riguardanti appunto come si potrebbe sviluppare, evolvere l'intelligenza artificiale e poi magari passiamo alla cyber security sì per quello che riguarda l'intelligenza artificiale evidenzierei tre trend senza entrare nei dettagli tecnici prima di tutto dopo una ubriacatura di machine learning oggi si comincia a capire che l'ambito dell'intelligenza artificiale deve includere anche strumenti e tecnologie diverse quindi accanto all'intelligenza artificiale tipo subsimbolico appunto rappresentata dal machine learning troviamo sempre di più strumenti basati sull'ottimizzazione matematica e sulla simulazione dinamica stocastica che diciamo usati in congiunzione con il machine learning danno dei risultati molto più significativi il secondo trend è che il machine learning stesso diciamo cambia molto rapidamente pensate solamente alla vicenda di chat GPT di cui tutti parlano in questo momento sono performance impensabili fino a un anno fa e infine c'è un tema diciamo così di governance, di regolazione che riguarda soprattutto l'Unione Europea l'intelligenza artificiale che dovremo produrre in futuro dovrà essere un'intelligenza artificiale affidabile, spiegabile e ispezionabile questo fa la differenza rispetto a quello che diciamo abbiamo conosciuto fino ad oggi grazie mille e anche altro tema diciamo molto caldo è quello del cyber security perché ovviamente poi purtroppo anche con lo scoppio della guerra cyber sicurezza diventa ancora più importante già lo era ma adesso lo diventa ancora di più a te riguardo ti volevo chiedere so che Spindox sta investendo parecchio anche su questo campo e quindi magari ti chiederei qualche ragguaio cioè raccontaci un po' in che termini cioè su che cosa state puntando, con quale obiettivo e poi anche un po' che cosa fa la vostra società sì dunque noi abbiamo cominciato a occuparci di cyber security nel 2022 abbiamo costituito una società con diciamo un focus su questo mondo il primo anno è andato molto bene perché abbiamo portato a casa più di un milione di euro di ricavi che diciamo per iniziare non va affatto male e immaginiamo di crescere parecchio quest'anno qui i temi da sottolineare sono due da un lato diciamo c'è una insicurezza geostrategica crescente per ragioni che diciamo non sottolineo perché sono fin troppo note e questo porta le grandi organizzazioni soprattutto quelle che lavorano diciamo in ambiti sensibili come le telecomunicazioni, l'energia, il settore dei servizi finanziari, bancari, assicurativi a innalzare il livello di guardia e l'altra tendenza è che diciamo più il nostro mondo si digitalizza è maggiore il numero di punti di attacco possibili, di punti di vulnerabilità di un'infrastruttura tecnologica perché intanto i punti di attacco sono le persone stesse con i loro telefoni cellulari, con i loro computer, sono le persone anche con le loro ingenuità con qualche diciamo debolezza dal punto di vista culturale a prestare il fianco di attacchi e poi ci sono gli oggetti perché noi siamo sempre di più circondati da oggetti collegati a internet i quali possono diventare dei punti di vulnerabilità questo fa sì che lo scenario sia particolarmente complesso che i servizi di cyber intelligence, di cyber security da mettere a disposizione delle grandi organizzazioni siano sempre più sofisticati è un mercato che crescerà molto assolutamente sì possiamo provare magari a chiedere anche qualcosa sull'e-commerce cosa cosa magari pensi anche di questo tema beh qui il grande game changer è stata la pandemia che ha modificato, ha riorientato le abitudini dei consumatori anche nel nostro paese uno dei più refrattari fino a tre anni fa all'impiego di servizi commercio elettronico questo ha in una certa misura colto tanti operatori in Italia impreparati soprattutto per quello che riguarda l'aspetto della logistica perché l'e-commerce è fatto di front-end e quindi come dire di un'infrastruttura web o di applicazioni mobile attraverso cui i clienti acquistano ma poi è fatto di una infrastruttura logistica che deve garantire la consegna ad ogni consumatore della merce acquistata il posto giusto, all'ora giusta, del giorno giusto questo è l'aspetto del quale noi in particolare ci occupiamo perché appunto lavoriamo nell'ambito dell'ottimizzazione dei processi logistici che sono stati molto stressati proprio a causa della pandemia oggi la sappiamo tutti un po' più lunga e quindi prendiamo queste tematiche più sul serio però è complicato Amazon stessa oggi fa più fatica rispetto a qualche anno fa a essere puntuale nelle consegne cioè più il commercio elettronico si diffonde più garantire una qualità eccellente nel servizio diventa complicato quindi di fatto scusami Paolo voi di Spindox siete a supporto delle società giusto, delle imprese nello sviluppare questi vari ambiti della tecnologia giusto? Esatto la nostra missione è proprio aiutare i clienti sono quasi sempre grandi organizzazioni noi lavoriamo con grandi clienti a utilizzare la tecnologia per trasformare il loro business a renderlo più forte nell'ottica insomma il paradigma digitale ok ti chiederei farei magari un'ultima domanda perché effettivamente un altro tema grande molto interessante secondo me di cui si è discusso tanto è quello del metaverso però un pochino sembrerebbe essersi come dire ancorato anche meta abbiamo visto che insomma sei un po' fermata non so ci vuoi dare qualche ragguaio anche al riguardo cioè come mai come la vedete voi insomma dunque intanto io uso malvolentieri l'espressione metaverso non perché non mi piaccia ma perché alluda a qualcosa che non esiste ancora certo prima tu accennavi a meta beh insomma le campagne pubblicitarie di meta che girano in questi giorni anche in televisione ci raccontano di quello che sarà nel futuro a scuola andremo in questo modo nel futuro in realtà quello che è interessante capire è che già in questo momento sta avvenendo una trasformazione che riguarda il tipo di esperienza che noi facciamo online non userei la parola metaverso per definirla però quello che sta succedendo è che sempre di più da una esperienza che è di tipo bidimensionale piatto come quella che stiamo facendo adesso noi attraverso una piattaforma di videoconferenza ecco da un'esperienza di questo tipo si passa si passa un'esperienza che è tridimensionale cioè c'è una terza dimensione e quindi un'esperienza spaziale in questo spazio gli utenti sono immersi perché questo cambiamento è importante perché un'esperienza immersiva tridimensionale immersiva è un'esperienza molto più ricca dal punto di vista emotivo e cognitivo e quindi è un'esperienza che supera tutti i limiti e le disfunzionalità del cosiddetto web 2.0 quindi altro che se questo è un trend è un trend forse è il più importante di tutti quelli di cui abbiamo parlato fino adesso ma siamo solo all'inizio di un percorso certo l'importante è come dire non fare troppa retorica sul metaverso perché poi si crea anche un'aspettativa che rischia di poi di essere frustrata sì quindi insomma serve ancora tempo la tecnologia per darci quello che meta sta promettendo esatto noi ci stiamo lavorando abbiamo costituito un'altra società che si chiama Ultra che si occupa solo di progettare e sviluppare esperienze immersive nei metaversi privati e pubblici quindi sulle piattaforme che tutti conoscono Decentraland, Roblox e compagnia certo allora Paolo grazie mille insomma ci hai dato un sacco di ragguagli sui vari campi della tecnologia anche per far vedere che l'Italia c'è anche l'Italia c'è nella tecnologia basta conoscere le società appunto giuste a questo punto Carola ti ridarei la parola sì grazie Michele grazie Paolo allora per seguire Spindox vi rimando al nostro sito WebSim dove appunto potete trovare l'analisi fondamentale della società inoltre sul sito WebSim potete trovare tante altre sezioni dedicate ai mercati e a tanti strumenti di investimento il sito di WebSim recentemente ha cambiato veste dopo vent'anni e infatti invito a chi non è già abbonato o a chi appunto non ha mai sentito parlare di WebSim di richiedere un pass gratuito per un mese mandando un'email a info.websim.it così avete appunto il pass gratuito per un mese io inoltre vi ricordo che per seguirci per rivedere la diretta di oggi e le dirette scorse vi rimando al nostro canale appunto di YouTube di WebSim io ringrazio Paolo ringrazio Michele e vi diamo appuntamento al prossimo lunedì con una nuova puntata grazie e buona settimana a tutti buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti